Eccoci con Alessandro Marchi, dunque Alessandro come va questa prima settimana di retiro, un bilancio? Questa settimana è filata via bene, è liscia, stiamo faticando molto, stiamo sudando come giusto che sia, stiamo preparando al meglio la stagione, però il bilancio è molto positivo, la squadra sta facendo tutto con grande entusiasmo perché stiamo cercando di creare tutti i presupposti per fare una grande stagione. Domani doppio impegno qui a Chiappano con tutti i compagni locali, cosa ne pensi? Ma siete pronti per questo? Sì, siamo pronti, questi sono amichevoli che sono sempre importanti, anche se sono sgambate perché mettono minuti nelle gambe, stiamo soffrendo un pochino il caldo, però va bene uguale, l'importante è mettere minuti nelle gambe, arrivare già per il primo impegno di Coppa Italia pronti a fare bene. Grazie a tutti.